buongiorno benvenuti a questo nuovo episodio della volpe leone mentre a milano si vandalizza nel stato a roma sfilano davanti al presidente del consiglio giuseppe conte le parti sociali intellettuali esperti e così via per decidere come bisognerà spendere i soldi destinati al rilancio economico crisi post lockdown post epidemia forse post epidemia da polmonite cinese una passerella mediatica mancanza di strategia necessità di trovare altrove delle idee su come spendere i soldi o genuina ricerca di un ampio consenso nel paese l'abbiamo chiesto al deputato della lega marco maggioni membro della commissione a fa europei nonché presidente della delegazione italiana presso iniziativa centro europea sono cominciati gli stati generali dell'economia convocati dal premier giuseppe conte la scelta di questo titolo di questo nome che rimanda a un esempio storico di matrice feudale monarchico assolutista ha subito scatenato le mali lingue che l'hanno imputato a un eccesso di ambizioni da parte del nostro presidente del consiglio a parte ciò si conferma la tendenza a creazione di una vasta gamma di organi consultivi è stato il caso le task force è stato il caso dei comitati salvo poi accentramento delle decisioni nelle mani del premier decisioni che poi non sempre vengono in maniera decisa e puntuale cosa dobbiamo aspettarci in questo caso visto che abbiamo in arrivo questa grande quantità di soldi però a quanto pare non si sa non si è ancora deciso come spenderli si è pensato prima procurarseli senza ancora avere un piano dobbiamo secondo me inquadrare dal punto di vista politico la decisione di conte di riunire gli stati generali che giustamente un po come si diceva prima non evocano tempi buoni facendo un po il parallelismo con quanto abbiamo visto accadere alla fine del 1700 in francia però a parte diciamo i rimandi storici io penso che questa maggioranza si sia formata a settembre dell'anno scorso con l'obiettivo di tirare in lungo tirare a campare per far sì che si arrivasse a livello di legislatura eh alla metà del duemila ventuno dove poi scatta il semestre bianco eh che porta poi all'elezione del presidente della repubblica l'obiettivo eh direi che mi sembra mi sembra chiaro ed è quello di far sì che non venga eletto un presidente della repubblica da una maggioranza di centrodestra che è la maggioranza che si sarebbe configurata se si fosse andati al voto eh nella nella dell'autunno dell'anno scorso quindi l'obiettivo numero uno l'obiettivo principale è tirare a campare e il tirare a campare eh direi che è il filo conduttore della eh azione di governo di di Conte e dei suoi ministri quindi anche gli stati generali cioè questa riunione eh di tutte le componenti sociali ed economiche del paese che sfileranno eh ordinatamente per si dice una decina di giorni a Villa Panfilia Roma fa parte e si innesta in questa eh strategia di fondo eh noi abbiamo visto come l'emergenza coronavirus abbia impattato e stia impattando duramente sulle nostre imprese sulla nostra economia eh sulla nostra società dove ci sono ancora persone eh che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione piuttosto che i famosi 600 euro che dovevano arrivare alle partite IVA e appunto dinanzi a questa eh questo impatto eh molto duro molto molto grave sul contesto economico eh l'Europa ma soprattutto il il governo Conte hanno preso tempo e quindi abbiamo iniziato con l'aspettare i famosi 15 giorni di riflessione dell'Unione Europea che doveva valutare eh come intervenire sono passati ben più di 15 giorni perché ormai siamo circa due mesi da eh dai primi vagiti che l'Unione Europea, la Commissione Europea facevano eh circa le misure da introdurre per far fronte all'emergenza covid e ancora non si è visto nulla. Eh qui dicevo un tirare a campare eh una necessità di confrontarsi con le parti sociali che sottintendono il fatto che questo governo non sappia da che parte andare e quindi cosa succede? Che quando tu non sai da che parte andare cosa fai? Devi necessariamente chiedere aiuto, devi chiedere le indicazioni, devi chiedere a qualcuno che sa o presume di sapere in che direzione tu ti debba muovere. Ed è un po' quello che sta facendo il governo Conte. Abbiamo visto la formazione di queste eh task force che hanno di fatto eh sostituito quello che il ruolo eh che dovrebbe invece avere a livello proprio di centralità democratica in capo al Parlamento e hanno queste task force hanno eh tolto anche un po' le castagne dal fuoco al presidente stesso il quale eh non sapendo che pesci pigliare si è affidato a questi esperti salvo poi dire se le decisioni venivano contestate eh non solo dalla politica ma anche dagli operatori economici eh appunto rivalersi su quelli che sono eh i tecnici stessi i componenti stessi di queste task force nel senso di dire me l'hanno detto loro e ho fatto quello che mi hanno detto di fare. per cui questa è purtroppo la sintesi il tirare a campare il tirare lungo e eh l'incapacità di fornire eh le eh le risposte che invece il territorio che invece l'economia chiede. Eh secondo noi invece bisognava bisogna agire intanto con una tempistica più rapida non abbiamo tempo di vedere sfilate di eh economisti di 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 esperti eh gli esponenti dell'economia italiana. Cioè questo eh il governo dovrebbe averlo ben chiaro e quindi bisognava intanto e bisogna intanto fare un'analisi su quelle che sono eh le necessità del paese e quelli che sono i danni che ha subito il paese da questa emergenza. Dopodiché stimati danni eh è necessario eh che un governo serio si muova nella direzione di porre rimedio a questi danni eh possibilmente rendendo il paese eh indipendente dal punto di autonomo dal punto di vista strategico sui settori che sono emersi come settori fondamentali, come settori primari in questa pandemia. Faccio un esempio a livello sanitario ci siamo resi conto che bisognava andare a chiedere le mascherine o comprare le mascherine all'estero perché l'Italia non era in grado autonomamente di prodursele e questo rende l'idea di come eh la strategicità di alcuni settori debba ritornare al centro dell'azione politica e dell'agenda economica. Quindi dicevo intanto stimare i danni e poi in seconda battuta eh stimare come e valutare come porre rimedio a questi danni valutando anche quelli che sono i costi. A quel punto si doveva andare a valutare quelle che sono le fonti di approvvigionamento finanziario eh migliori sia in tempi sia in termini di tempi di erogazione sia in termini di costi. Poi invece mi pare che non si sia proceduti con uno schema, non si sia proceduti con una strategia e una metodologia eh di fondo ma si è andati un po' a tentoni per cui abuso di queste task force. Dall'altro eh il fatto che non si sia spinto fin da subito eh ad ottenere le risorse finanziarie dai con attraverso l'emissione di debito pubblico che abbiamo visto invece essere una eh fonte di finanziamento rapida e che è stata anche ben accettata da quelli che sono eh i risparmiatori che hanno e sono tornati a eh sottoscrivere eh largamente buoni del tesoro ed erano anzi disponibili a sottoscrivere eh più di quanto lo Stato non avesse deciso eh di emettere. Ecco e poi anche in sede europea purtroppo non si è ancora eh definito il sistema di finanziamento che verrà utilizzato per eh finanziare questi strumenti che sono stati individuati anche se risulta già chiaro e non lo dico semplicemente io eh come eh parlamentare di una forza di opposizione che potrà essere detacciato di partigianeria ma lo dicono gli esperti, gli economisti che abbiamo audito in commissione che stiamo udendo anche in questi giorni in commissione politiche dell'Unione Europea alla Camera i quali ci dicono che eh la caratteristica certa che hanno tutti questi strumenti è il fatto che verranno erogati se tutto va bene nell'ottica del 2021. Eh quindi nel 2020 dall'Unione Europea eh non arriverà eh nulla. Eh forse arriveranno dal 2021 ma anche qui c'è un grande dibattito eh legato appunto a come possono essere eh finanziate le varie le varie misure che sono state eh individuate ed è normale che ci sia questa differenza di vedute perché sappiamo che all'interno dei 27 Paesi membri ci sono posizioni differenti, legittime, ma posizioni differenti tali per cui arrivare ad adottare una misura condivisa diventa estremamente complicato. E poi c'è la grande domanda. Tutti si eh chiedono quanto denaro arriverà, quante risorse, con quale tempistica, ma io aggiungo un'altra domanda. Per fare che cosa? Perché considerando la presenza del governo di una forza politica che ha fatto della eh della cultura, del mantenimento, dell'essere mantenuti dallo Stato una bandiera e come il Movimento 5 Stelle con le varie forme di reddito eh di di cittadinanza o altri nomi che vanno di moda in questo periodo. Ecco questo mi preoccupa perché io credo che le risorse che arrivano e che arriveranno sono risorse che devono essere impiegate per sostenere l'imprenditoria, per sostenere eh la capacità di creare prodotti interno loro. Sì perché non dimentichiamo che anche se diciamo a livello mediatico è passata soprattutto la narrazione vera in parte dei contributi a fondo perduto, poi c'è la parte sostanziosa che rimangono dei prestiti, per quanto poi possano esserci tassi vantaggiose e così via. Quindi se questi eh soldi vengono prestati, non vengono spesi in una maniera produttiva che garantisca il ritorno, eh il risultato è più debito eh quindi non necessariamente questa eh uova dalle galline d'oro, questa gallina dalle uova d'oro effettivamente è detto che produca ricchezza, non necessariamente, è decisivo in modo in cui lo spenderà eh il governo nelle strategie come dicevi che seguirà. Ma eh io leggevo proprio in questi giorni si è incominciato a testare nei sondaggi un ipotetico partito di Conte eh addirittura oggi mi pare il Corriere della Sera eh paragonava l'attuale popolarità di Conte a quella di Berlusconi nell'epoca d'oro, nel suo momento migliore. Ora siamo d'accordo eh Conte sta guidando un governo raffazzonato che è nato essenzialmente per tenere fuori da Palazzo Chigi e dai Ministeri l'altra parte. Siamo d'accordo che la gestione della crisi sanitaria e poi attualmente della crisi economica è fortemente deficitaria. Ma allora eh perché c'è questo eh ci dicono i sondaggi ovviamente con tutte le cautele innamoramento di una parte della popolazione per Giuseppe Conte e quanto potrebbe durare, quanto potrebbe incidere in una prospettiva comunque elettorale eh a livello nazionale non così vicina immagino. Io i sondaggi credo relativamente. Io i sondaggi sono abituato a farli parlando con le persone al supermercato piuttosto che al bar o fuori dalla messa domenicale e devo dire che con questo metodo raramente si sbaglia perché parli eh con le persone che poi sono quelle che votano e e e quindi hai il polso della situazione reale. Eh quindi io francamente questo innamoramento per Conte non lo sto percependo e ripeto non lo dico per partigianeria ma lo dico perché non trovo persone che parlino bene eh di Conte. Trovo invece una forte delusione nei 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 confronti di quello che avrebbe dovuto fare e avrebbe potuto fare questo questo governo. Eh io penso che questi questi sondaggi, queste valutazioni che vengono buttate così in pasto tramite i giornali servano invece a gettare lo spauracchio all'interno della maggioranza. Se ci sono delle tensioni, se ci sono degli scricchioli, se ci sono eh delle avvisaglie che potrebbero portare a delle crisi o delle rotture della maggioranza con il rischio di tornare al voto ecco che strategicamente viene lanciato un sondaggio dove si dice attenzione perché se si torna al voto io Conte faccio il mio partito e non ce n'è più per nessuno. Un partito che guarda il caso proprio da da questi sondaggi andrebbe a rosicchiare parecchio in particolare ai partiti che compongono la maggioranza e quindi è un po' un messaggio che viene lanciato per tenerli buoni e dire o accettate questa compagine oppure torniamo al voto e a quel punto non ce n'è più per nessuno né per uno né per l'altro perché piglio tutto io. Questo mi sembra il motivo per cui viene viene lanciato e viene fatto eh questo questo sondaggio eh testimonia però lo scollegamento che c'è con con la realtà. Questo mi pare mi pare esche in modo lampante. Tanto una polemica sui sondaggi c'è stata proprio di recente anche negli Stati Uniti il presidente ha accusato da CNN proprio di produrre sondaggi falsi basandosi su sul parere e sull'analisi tecnica di un altro sondaggista. Quindi diciamo tutto il mondo e il paese da questo punto di vista non so se quegli italiani siano contraffatti o meno però eh potrebbe esserci una sorta di tendenziosità eh e di doppie finalità ricondite di natura politica. Nel caso però mi interrogo nel caso nel caso del presidente Trump al presidente degli Stati Uniti d'America direi che eh quei sondaggi portano solamente bene perché ricordiamo che Trump eh dai sondaggi non doveva nemmeno spuntare la candidatura a presidente e invece la ottenne e dai sondaggi eh non 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 era minimamente impredicato di poter vincere eh le eh presidenziali e invece ha vinto e bene su Hillary Clinton contro ogni appunto sondaggio contro ogni previsione. Per cui se anche questi sondaggi che stanno girando in queste settimane vedono il presidente Trump indietro rispetto a Joe Biden vuol dire che Trump sta andando in una direzione giusta e a novembre ci toglieremo ancora con Donald Trump delle alte soddisfazioni. A proposito di tendenze che vengono dall'America c'è questa ultima del vandalizzare le statue non politicamente corretto. È successo un fatto importante a Milano nel senso che per la seconda volta è stata ehm vandalizzata la statua a Indro Montanelli. Tu sei Lombardo ecco che che opinione hai su questi fenomeni? Una moda passeggera eh che durava pochi giorni o dietro invece c'è un più preoccupante movimento ideologico che eh ora oggi attacca le statue ma in cui bersaglio in ultimo è la storia, la tradizione e identità dell'Occidente così come eh è arrivato a noi. Io credo che non ci sia nulla di nuovo sotto questo aspetto. Eh noi abbiamo già vissuto questa eh questa ideologia che è ancora purtroppo presente in certi ambienti radical chic che strizzano poi l'occhio con eh qualche scalmanato fuoriuscito da qualche centro sociale e la differenza è che rispetto a prima è che mentre quello che abbiamo potuto vivere era una forma eh di oscurantismo eh culturale presente per lo più negli stati europei e quindi anche nel nostro paese adesso si è reso palese anche negli Stati Uniti ma eh comunque il brodo di coltura da cui eh saltano fuori questi soggetti che eh lottano a loro a loro parere per la democrazia e per i diritti andando ad attaccare a distruggere le statue e quindi a ad attaccare la storia come purtroppo abbiamo visto accadere negli anni trenta quando c'era eh un dittatore in Germania che bruciava i libri ecco mi pare una 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 forte incoerenza quindi per per difendere secondo loro la democrazia vado ad annullare quella che è la libertà di opinione andando appunto a distruggere le statue cercando di stravolgere la storia ecco questo deve 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 far riflettere eh però anche lì ecco eh il fatto che negli Stati Uniti si stia sfruttando la morte eh violenta colpevole eh di un afroamericano per arrivare a coalizzare eh una parte eh minimale peraltro l'opinione pubblica contro Trump è il segno che eh siamo ormai in aperta campagna elettorale negli Stati Uniti e avendo visto che il presidente alle urne eh è uscito vincitore e ancora oggi ha degli ottimi consensi dall'altro non sono riusciti a distruggerlo ad abbatterlo per via giudiziaria e qui possiamo anche fare tanti parallelismi con quello che abbiamo visto accadere eh in questi ultimi decenni nel nostro paese ecco allora se non funziona la la se non funzionano le urne non funziona la eh l'arma giudiziaria ecco allora rimane l'ultima eh terza arma che è la piazza che sono gli scontri che è il cercare di invece impaurire la la classe media che è quella che che lavora che produce e che verosimilmente ha votato insieme alla classe operaia massacrata dall'amministrazione Obama ecco sono sono le fette di popolazione e le classi sociali che hanno votato per Trump e verosimilmente lo lo rivoteranno ancora più convinte di prima a novembre quindi nulla di nuovo proprio purtroppo semplicemente il fatto che anche negli Stati Uniti si usano sistemi che sono stati usati e si usano ancora qui in Europa quell'effetto di popolazione che caro figlio definirebbe la gente sudata no con eh proprio per chiarire invece qual è l'estrazione sociale di questa intelligenza eh di sinistra bene grazie mille Marco buon lavoro grazie grazie a voi grazie a voi